Scendler Ogni giorno nel mondo un miliardo di persone utilizzano ascensori o scale mobili Schindler e adesso a prendere l'ascensore sono le carriere femminili in azienda. A cominciare dalla Schindler elettronica SA di Locarno, 450 dipendenti che producono componentistica ad alta tecnologia. Le donne sono il 37% tra operaie, specialiste di commercio, tecniche e ingegnere. Nove colleghe hanno raggiunto un ruolo manageriale, come Anella Milli, responsabile di spedizioni e pezzi di ricambio. Qui in Schindler ho avuto modo di valorizzare le mie caratteristiche grazie ad una carriera che è nata nel 2009 come ingegnere della qualità. Dopo due anni mi è stata offerta la possibilità di diventare responsabile del reparto spedizioni e pezzi di ricambio e grazie a questo percorso ho potuto incrementare quelle che erano le caratteristiche e i valori del mio carattere. Una donna in un ambiente tecnologico come questo è possibile perché a fronte di un valido percorso formativo ognuno di noi ha la possibilità di portare le proprie competenze tecniche, i propri valori e le proprie caratteristiche personali anche in un ruolo che è solitamente considerato prettamente maschile. Siamo convinti che sostenere le carriere al femminile sia importante per diversificare il personale e valorizzare i talenti anche presso le nostre colleghe. Già oggi Schindler Locarno ha al suo attivo una serie di misure per aiutare i dipendenti e le dipendenti del gruppo. Per esempio si può lavorare orari flessibili e in casi particolari anche da casa. Riesco a conciliare la mia vita privata con quella lavorativa grazie al fatto che Schindler offre un orario flessibile e offre la possibilità a tutti noi di ritagliarci dei momenti laddove siano necessari. Chiaramente questi momenti poi devono venire recuperati in un momento successivo ed è importante pertanto che ognuno di noi come in qualità di responsabile sappia gestire e bilanciare il momento di libero con quello poi di impegno effettivo. Un'azienda dunque all'avanguardia su tutti i fronti Schindler Elettronica nei prodotti altamente tecnologici, nella gestione moderna ed efficace del personale. in un'azienda dunque all'avanguardia sull'im reciprocità e insomma abitarebbe Rodola